Confesiacenti Marche e Cesco Tancona scelgono il web per aiutare gli aspiranti giovani imprenditori attraverso il nuovo servizio di consulenza e tutoraggio gratuito starting online. Ilva Sartini, direttore Confesiacenti Marche, ci spiega di cosa si tratta. È un progetto che si rivolge in particolar modo ai giovani che utilizzano meglio di altri il web, ma a chiunque voglia aprire un'attività autonoma o imprenditoriale e vuole essere assistito da una serie di consulenti che possano guidarlo per aprire un'impresa di successo. In pratica è una pagina sul nostro sito web Confesiacenti Marche, attraverso la quale si accede in videoconferenza o in chat alla consulenza di quattro esperti. Marketing e posizionamento, pianificazione finanziaria, adempimenti fiscali e procedure per l'avvio attività. Sono i quattro aspetti determinanti per l'avvio corretto di un'attività, come ci spiega Manola Donati, consulente del servizio starting online. Di solito i giovani partono con il dire che mi piacerebbe fare una certa cosa, un certo tipo di lavoro. A molti ad esempio mi può piacere avere un bar, un'attività di questo tipo. Come? Pensi di farla da solo, lavorerai da solo, hai già l'idea di qualcuno insieme a te, in che forma? Dipendenti, collaboratori, soci, ci sono delle differenze enormi. E poi questa è una prima parte di analisi che secondo me va fatta. Poi dopo anche quali sono gli enti con cui io mi devo rapportare, di chi devo tener conto. Quindi la consulenza nel mio caso verte su questo. Che cosa va fatto, come va fatto, in quali tempi?